Buongiorno, sono il professor Pasetto, insegno musica nella scuola secondaria di primo grado Italo Montemezzi a Vigasio. Il capitolo che potete vedere in questo sito riguarda i progetti, progetti intesi come progetti di qualche anno fa. Partiamo da quello dell'anno scorso, anno scolastico 2009-2010, American Folk Songs. Abbiamo coinvolto una folk singer statunitense di nome Deborah Cooperman e ha insegnato ai bambini della scuola di infanzia e ai ragazzi della scuola secondaria un repertorio di canzoni tradizionali americane. Il secondo progetto, La mia voce oltre il vento, ha coinvolto un esperto di nome Antonio Nesci, scrittore di romanzi e didatta che si occupa dell'insegnamento, del modo e del metodo per riuscire a far produrre ai ragazzi delle poesie. Ogni studente ha prodotto una propria poesia con una propria illustrazione curata dal docente di arte e le poesie collettive di ogni classe sono state poi musicate e incise in un CD. Sia il progetto American Folk Song che La mia voce oltre il vento hanno ottenuto un finanziamento da parte dell'amministrazione comunale di Vigasio. Il terzo progetto dedicato a Italo Montemezzi è un vecchio progetto del 2002 che vedeva il cinquantesimo anniversario della scomparsa del compositore Italo Montemezzi di Vigasio e abbiamo prodotto, scritto un CD con un po' con la tecnica radiofonica, del racconto radiofonico, la vita, l'opera del compositore e la storia del suo capolavoro che è L'amore dei tre re. I canti del Veneto è un altro CD che abbiamo prodotto nell'anno scolastico 2007, abbiamo coinvolto tutti gli ordini di scuola, dalla scuola d'infanzia alla scuola secondaria, all'indirizzo musicale e infine il progetto CLIL che attraverso la lingua veicolare dell'inglese abbiamo insegnato a due classi musica e di educazione musicale.